Sandra Stivali della CGL di Padova. C'è una dicotomia tra quello che dicevano le schede ospedaliere e quanto potrebbe invece realizzarsi all'Oiovo di Padova? Sì, noi siamo molto preoccupati di quello che si sta determinando rispetto alle linee del piano sociosanitario regionale, che è la cornice di riferimento regionale sul quale noi ci muoviamo per prendere le scelte, la regione si muove per prendere le scelte sui temi sociosanitari. A sua volta c'è una differenza su quanto riguarda l'atto aziendale approvato dentro l'Oiovo e adesso si decide che due punti essenziali e importanti di questo istituto di ricerca di eccellenza riconosciuto a livello nazionale, la ricerca venga spostata ad Arzignano e qui rimanga tutta l'attività clinica, diagnostica e dall'altra è già avvenuto da tempo il trasferimento del registro tumori. Noi lanciamo questa richiesta anche alla regione di qual è la linea di indirizzo, la scelta politica, siamo in tempo di spending review. Si dice revisione della spesa ma poi si decide di ripartire eccellenze di questa natura. Forse riorganizzarle, tenerle insieme perché possano continuare non solo quella che è l'attività ordinaria della salute purtroppo di chi affronta una malattia oncologica, ma anche quella che è la prospettiva di ricerca e di debellamento delle malattie che purtroppo, come sappiamo dai dati nazionali, sono sempre in aumento. Quindi chiediamo che un istituto di questa natura venga mantenuto con la sua struttura originaria e soprattutto venga valorizzato e non scorporato. Voi vi appellate alla regione però non è l'unica che può decidere su questo? Assolutamente, non c'è solo la regione, c'è anche il ruolo dei comuni del territorio. Noi facciamo afferimento all'Ulus 16 e pensiamo che le istituzioni amministrative abbiano un ruolo essenziale e fondamentale. Chi decide di affrontare la campagna di amministrare una città come Padova debba assolutamente rispondere a un'esigenza di questo tipo e crediamo che ci sembra un pochino particolare questa divergenza tra idea regionale e quello che poi si pratica nel territorio. Noi invece pensiamo che chi deve amministrare il territorio debba avere un'idea chiara di salute e di tutela, anche di tutela di un patrimonio di ricerca legato all'Università di Padova, l'eccellenza di medicina dell'Università di Padova che si trova depotenziata anche in questa situazione come in altre. rispetto ad altri territori della regione.